Buona serata, apriamo una nuova edizione del tv giornale di Telestense, tra poco subito parleremo di cronaca, c'è stato un incidente oggi pomeriggio sulla statale Romea ma parleremo ancora di Ucraina, soprattutto di come procede l'accoglienza a Ferrara dei primi profughi che sono arrivati appunto negli ultimi giorni, ci occuperemo anche di covid, purtroppo si registra ancora un decesso nel ferrarese e 168 nuovi positivi e poi anticiperemo iniziative legate alla festa della donna che sarà celebrata proprio domani. Come però dicevo in apertura apriamo subito parlando di un incidente questo pomeriggio poco prima delle 14 sulla statale Romea all'altezza di Mesola coinvolte due auto e le sei persone a bordo dei mezzi, persone uomini e donne appunto di età che vanno dai 17 ai 74 anni, tutti con ferite lievi e moderate. Sono intervenute due ambulanze, l'alli soccorso, tutti feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Cona. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Incidente che ricordiamo ha provocato rallentamenti alla circolazione e lunghe code sulla Romea e la situazione sarebbe tornata alla normalità poco prima delle ore 17. Ma adesso invece parliamo ancora di emergenza ucraina. Sono arrivate a mezzogiorno al centro sociale Rivanna Garden, portate da un campo profughi in Polonia al confine con l'Ucraina, Ferrara da Aleksandr, cittadino ucraino partito da Ferrara venerdì mattina come avevamo raccontato nel tv giornale di ieri. Sono una mamma con i suoi tre bambini, due cugine tutte con parenti e amici ferraresi pronte a ospitarle e a Ferrara le aspettavo un altro cugino già ospite della nonna. Con loro erano una giovane mamma con la figlia di 16 anni diretta a Orte in provincia di Viterbo e sono fuggite appunto da una città dove, dopo i primi bombardamenti, sulla centrale nucleare. Stiamo a questo punto il racconto di Aleksandr che dopo 14 ore di viaggio di ritorno, nonostante la stanchezza, ci presenta le nuove arrivate e ringrazia il suo datore di lavoro ferrarese per la generosità. Sono appena arrivato dalla Polonia, dal confine con l'Ucraina. Quanto tempo ti hai messo venire in Italia? Mi sono messo 14 ore più o meno. Quindi hai girato tutta notte? avete viaggiato? Sì, mi sono messo più o meno 14 ore andata e poi altri 14 ore tornata. Questi sono ragazzi che vengono da...erano in un campo prof? Sì, erano in un campo prof dove sono andato a prenderli e a portarli qua. Ecco, qua a Ferrara chi provano? A Ferrara ho una mamma con tre bambini e sono i loro parenti e li ho portati da loro parenti. Invece questi due qua, i ragazzi hanno i parenti a orte e adesso alle tre c'è il treno, sì, le metto sul treno e loro vanno a orte da sua madre. Dalla mamma? Sì. E queste signorine qua? Sì. E loro? a chi vi stanno qui? No, i nostri colleghi. Anche loro hanno parenti qua a Ferrara. A Ferrara? Tutti, tre, uno, due... Volevamo a terra, da voi? Sì, sì, certo. Certo. C'è chi è qui? A Poguso. Nonno. Sì, io vivo a Ferrara da 2016. Lavoro in un'azienda che si chiama ditta di Ganelli, un elettricista, e diciamo che questi furgoni qua me li ha annunciato il mio datore di lavoro, una bravissima persona, grazie a lui, e mi ha detto quanti giorni te ne servono, tu te li prendi i permessi, non ci sono problemi, voglio ringraziare queste persone qua. Intanto proprio a proposito di accoglienza abbiamo seduto Natalia, cittadina ucraina attiva da giorni al centro di raccolta della Rivana Garden con padre Vasil e il colonnello a Firincelli e con lei c'è Laura, volontaria ferrarese del centro sociale, esempio di generosità personale e di tutti i soci del centro. Con loro questa mattina al lavoro di smistamento pacchi abbiamo incontrato un'avvocata ferrarese, una farmacista e alcuni volontari della SPAL. Diciamo dal 2007 ma io non ero stabile qua, dal 2008 sono andata in Ucraina e tornavo qua solo per vacanze, perché mio marito era qua e io con la mia figlia ero in Ucraina perché volevo che lei studiasse lì. Poi al 2013 sono ritornata, mio figlio è andata a scuola qua e quindi da lì siamo sempre qua. Quanti anni ha tua figlia? 20 anni. Dove abitavate in Ucraina? In Ucraina, Ivano Franchis, quella città che avete sentito sempre il primo giorno quando hanno fatto bombardamenti c'era anche la nostra città e c'era anche questo video che c'era proprio dalla nostra città che è lì dove c'è l'esplosione. Che hai lasciato in Ucraina? Chi c'è di tu? C'ho la mia sorella con la sua famiglia di cui ci sono due figli, uno maggiorenne che dovrebbe andare a combattere, si chiamano e quindi io sono preoccupatissima per lui. C'è anche il suo marito che dovrebbe anche lui andare a combattere, un altro figlio che ha dieci anni, poi la mia nonna, i miei cugini, gli tutti, poi c'è anche, adesso che è arrivata oggi la cognata di mio marito, mi ha lasciato suo marito lì in Ucraina. Che combattere? No, ancora non è combattere perché per il momento chiamano solo questi che sanno combattere, che sono già professionali. Però se chiameranno, se sarà il momento che non ci saranno più quelli professionali, chiameranno tutti. Voi vi aspettavate questo? No, no, perché io sempre, tutti, anche la mia sorella, perché io quando sentivo Putin che diceva sempre di questa guerra e poi tutti dicevano anche l'America soprattutto, e io dicevo sempre alla mia sorella, dai che almeno il tuo figlio maggiore viene qua, ma lei sempre credeva che non ci sarà una guerra così, quindi fino alla fine speravamo che non succederà. Io sono una volontaria del centro Rivana Garden e che l'associazione Nati con la Calza Maglia, se ci siamo interiato, ha donato gli spazi, il tendone e il centro Rivana ha accolto questa raccolta umanitaria messa in piedi da Andrea e da Natalia soprattutto, che stanno organizzando tutto e noi aiutiamo come possiamo fornendo un pranzo, un pasto caldo per tutti i volontari che arrivano da Ferrara e anche ferrarisi ucraini diciamo, e gli diamo, facciamo questo, è un gesto, niente, un minimo che possiamo fare, lo facciamo molto volentieri e siamo qui a disposizione per quello che c'è da fare, lo facciamo. E adesso cambiamo radicalmente argomento, parliamo di Covid, purtroppo ancora un decesso e 168 nuovi positivi nel ferrarese, ma vediamo i dettagli nel bollettino. La pressione ospedaliera sui reparti Covid ferraresi registra 73 posti occupati a Cona, 36 al Delta e 14 a 100, intanto sono 116 nuovi guariti, 168 nuovi positivi e un nuovo decesso nel ferrarese, una vigaranese di 96 anni. E quanto emerge dal bollettino Covid? Anche l'aggiornamento regionale registra un aumento leggero della pressione ospedaliera, e intanto in Emilia Romagna si registra una diminuzione dei casi attivi e sono quasi 3 mila i nuovi guariti, quasi 1.900 i nuovi casi, mentre sono 13 i decessi totali in regione. Capitolo vaccini nel ferrarese hanno raggiunto quota oltre 212 mila e i cittadini estensi che hanno ricevuto la terza dose, quasi 400, le persone invece che hanno già la quarta dose. Rimaniamo sempre nell'ambito della sanità, domani come sapete è l'8 marzo, inizia il Mese delle Donne organizzato dall'azienda USL di Ferrara. Vediamo. Parte con la giornata dell'8 marzo, il programma di eventi e iniziative che azienda USL Ferrara intende dedicare alle donne fino all'8 aprile prossimo. Non solo l'8 marzo dunque, ma un mese intero di appuntamenti dedicati alle donne che azienda USL Ferrara ha organizzato per sensibilizzare sul gender pay gap, tema caro anche al governo per ridurre la differenza che ancora esiste in molti ambiti della società tra il ruolo della donna rispetto a quello dell'uomo. Prevenzione attraverso lo screening delle malattie oncologiche che colpiscono le donne, la consegna di primule alle operatrici dei centri vaccinali di Ferrara e Provincia che da oltre un anno e senza sosta operano per cercare di sconfiggere il virus e la consegna anche alle ospiti. Sono solo alcuni degli eventi del mese delle donne azienda USL Ferrara e ancora la promozione delle pari opportunità attraverso le interviste a quelle donne dell'azienda impegnate con il tema delle pari opportunità e contro la violenza di genere. Gli eventi nel dettaglio che partiranno dall'8 marzo lo trovate su telestense.it. Intanto proprio ridosso dell'8 marzo la Camera di Commercio rende noto che la provincia di Ferrara registra un trend positivo per le imprese femminili. Vediamo il servizio. Sono 7.217 le imprese femminili in provincia di Ferrara alla fine del 2021. Si tratta del 23,3% del totale. La quota più elevata della regione è superiore anche alla quota nazionale pari al 22,6%. Le aziende in rosa rispetto al 2020 sono 73 in più, aumentano le imprese straniere e tra i settori economici più coinvolti spiccano i servizi. È la fotografia scattata dall'osservatorio dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara che registra per le imprese femminili una tendenza positiva, più 0,1%, migliore rispetto a quanto avvenuto nel sistema imprenditoriale nel suo complesso, meno 0,2%. Nell'ultimo periodo, dichiara Gisella Ferri, presidente del Comitato Provinciale per dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Ferrara, gli indici di occupazione sono saliti ed è un dato importante, ma ancora tante e troppe donne sono escluse del lavoro e la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale e umano. A fine 2021 le imprese under 35 femminili erano 695, pari al 9,6% delle imprese in rosa ferraresi. Una quota ancora ridotta, ma ben più elevata rispetto allo stesso indicatore riferito alle non femminili, 6,6%. Si concentrano in particolare nei settori del commercio al dettaglio, 15,1%, della ristorazione, 14% e dei servizi alla persona, 14,8%. Alla stessa data le imprese femminili straniere sono risultate 782, pari al 10,8% del totale delle imprese rosa ferraresi. Si concentrano in particolare nel commercio al dettaglio, 24,9%, circa una su quattro, nella ristorazione, 19,9%, negli altri servizi per la persona, parrucchiere, centri estetici ed altro, 9,6%, nell'attività manifatturiere delle confezioni, 8,6%, nel commercio all'ingrosso, 5,2% e nel settore delle pulizie con un 6,5%. Si chiama Focus Ferrara, fa parte del patto per il lavoro e il clima della regione Emilia-Romagna, sulla cui falsa riga è stato stretto tra tutti i comuni e i sindacati le forze economiche produttive della provincia. Individua quattro linee di intervento che vanno dalla crisi demografica all'emergenza climatica, dalla trasformazione digitale alla riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali, di genere e territoriali e ha nel PNRR la possibilità dei finanziamenti per i progetti di sviluppo proposti dalla consulta provinciale. Un lavoro impegnativo che resta in gran parte estraneo e misterioso all'opinione pubblica dei cittadini, come sottolinea Daglia Bighinati nell'intervista a Tu per Tu a Marcella Zappaterra, capogruppo PD nell'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna. Sentiamo dunque come risponde la consigliera regionale. Proprio sul Ferrara Focus aprirei una serie di consultazioni a tutti quei mondi che non hanno partecipato alla trattativa in modo diretto, ma che hanno qualcosa da dire, che non vuol dire l'ingerenza nelle competenze dei sindaci o del mondo dell'economia. Quella non è in discussione. Il patto, il Focus l'hanno già chiuso, è già firmato, si va avanti su quello, però a mio parere credo sia utile a tutti, alle istituzioni in primis, ma lo dico anche al mondo economico, sentire le opinioni di associazioni che siano culturali, che siano think tank o di persone che hanno qualcosa da dire. Io da questo punto di vista penso che sul Focus Ferrara ci siano tutte le condizioni per allargare, intanto perché hanno interesse alle istituzioni per prima far conoscere i progetti che hanno messo dentro al Focus. Anch'io. Considerato che sono progetti che di volta in volta i tecnici decideranno se sono candidabili o meno, però da qui a ora che si presenta il progetto possono essere modificabili e a volte ci possono essere anche delle minime modifiche che alla fine raccolgono le sensibilità e le osservazioni di qualcuno che non ha partecipato alla tavola. Io non penso che non sia una speranza, è un bisogno di volontà. Mi fa piacere che le dica questo, perché io appartengo ad un gruppo di donne che per esempio sottolineo dal punto di vista dell'aperta di genere, che Ferrara, parliamo di Ferrara, non di Bologna e non forse della regione, non hanno dati significativi sulla condizione femminile a vari livelli, il mercato del lavoro, e se non si hanno dei dati praticamente si fa fatica ad incidere con delle politiche, che politiche si fanno. Ecco, questo sarebbe un auspicio, una richiesta da fare alle istituzioni che hanno le mani in pasta in questi progetti e l'altra è la digitalizzazione, ma la digitalizzazione, la competenza digitale nel mondo femminile, oppure l'inserimento delle ragazze nelle facoltà di tipo scientifico, STEM, ecco. Su questi temi le donne organizzate in vero modo, o anche organizzazioni diciamo parasindacali o culturali, hanno delle cose da dire. Lei ritiene che sia bene, ecco da quello che ci ha detto adesso, che farsi sentire e chiedere, come dire, di potere avere un dialogo, un confronto con le istituzioni che si occupano di questi temi. Assolutamente sì, ma in regione noi facciamo abitualmente audizioni in commissione con le associazioni che sono comunque destinatarie di un provvedimento, lo facciamo con i centri di antiviolenza, per i finanziamenti destinati a loro, adesso voi non siete un think tank destinatario di finanziamenti, ma io penso che siate comunque uno stakeholder che può fornire dei suggerimenti utili e importanti, ma lo dico perché non deve essere vissuto dal punto di vista istituzionale come un piacere che si fa a voi, secondo me dovrebbero essere contenti. No, ma ci sono delle istituzioni anche culturali molto importanti sul territorio, ecco, non faccio nè. Senza dubbio, però io farei proprio un'operazione di divulgazione del Ferrara Focus, di trasparenza, di conoscenza. Intanto domani pomeriggio, martedì 8 marzo, si terrà presso la sede di Confindustria di Ferrara un incontro per parlare dei problemi causati dal caro energia. Sentiamo di che si tratta. Come affrontare i prossimi mesi con l'aumento delle commodity del gas e dell'energia? Il tema, particolarmente delicato e di forte attualità, sarà discusso in un incontro organizzato da Confindustria Emilia, che metterà a confronto professionisti del settore con amministratori e dirigenti del segmento energetico. L'appuntamento è per martedì 8 marzo alle 17, presso la sede di via Montebello a Ferrara, ma il dibattito sarà trasmesso anche in rete su YouTube. In apertura dei lavori, il presidente di piccola industria Confindustria Ferrara, Gianluigi Zaina, a cui seguirà il senior economist del centro studi Confindustria, Ciro Rapacciuolo, che affronterà le prospettive dei rincari energetici. Strumenti per la mitigazione dei costi saranno messi in campo dall'amministratore delegato Eracom, Cristian Fabri, mentre aspetterà a Fabio Zambelli, direttore del consorzio esperienza energia, affrontare misure italiane ed europee a sostegno dei consumatori e delle imprese nell'attuale contesto di mercato. Prima della chiusura dei lavori, affidata a Michele Poggi Polini, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Emilia, sarà presentata da Simona Turra dell'area finanza d'impresa Confindustria Emilia, una piattaforma a supporto della pianificazione dei costi di approvvigionamento degli associati. Parliamo adesso di bracconaggio ittico. C'è una linea comune contro il bracconaggio da parte dell'arma dei carabinieri e dell'autorità del fiume Po. Sammito operativo del segretario Berselli con il comandante dei carabinieri forestali regionale, generale Mari, mentre la consulta della pesca con tutte le regioni del distretto procede insieme alle prefetture per l'attuazione delle linee di contrasto al grave fenomeno dei predoni dei fiumi. Vediamo. Per noi è molto importante la collaborazione con i carabinieri forestali perché con la consulta della pesca stiamo intervenendo in un'azione fondamentale con l'antibraconaggio e questo ci permette attraverso i carabinieri forestali di essere sul territorio, di controllare il territorio e di far acquisire alla nostra gente la realtà di non essere dimenticati o abbandonati. Ecco perché questo protocollo che stiamo scrivendo con i carabinieri forestali diventa per noi molto importante per il futuro del controllo sul fiume. Sicuramente l'attività antibraconaggio svolta in questi anni per noi è fondamentale anche per migliorare le capacità operative. In questa realtà peraltro ci sono anche state delle operazioni anche molto importanti. Ovviamente ultimamente abbiamo fatto anche delle attività di grande rilevanza sul delta dove facciamo delle operazioni antibraconaggio periodiche ma ripetute nel tempo e tutto questo chiaramente ci serve anche per migliorare la nostra capacità operativa. Ora dobbiamo fare anche un salto di livello nel raccordarci anche con le istituzioni che ovviamente hanno competenza sul PO. Ovviamente l'autorità di Bacino per noi è un riferimento importante, lo è ancor più oggi perché apparteniamo allo stesso Ministero, al Ministero Transizione Ecologica, quindi l'incontro di oggi con il Segretario Generale ci consentirà di migliorare sicuramente i rapporti di collaborazione interistituzionale che ci sono sempre stati ma che oggi dobbiamo anche perfezionare, migliorare anche in relazione a quelle che sono e il rinnovo del protocollo che ormai in questo triennio ci ha dato anche delle risposte importanti e utili anche per migliorare l'efficacia di chi opera sul bacino del PO e chiaramente il protocollo è anche un modo per mettere a fattor comune anche con le associazioni, con le autorità provinciali, con le polizie municipali, tutta l'attività operativa che deve comunque essere messa a fattor comune. E intanto ieri è stato inaugurato il punto bici FIAB in Piazza Travaglio a Ferrara. Vediamo. Un punto per gli appassionati della bici ma soprattutto per i turisti. Questo sarà il nuovo punto bici FIAB in Piazza Travaglio a Ferrara inaugurato domenica in un locale concesso dal comune Estense. Un punto strategico all'inizio della ciclabile del sottomura da Porta Paola a due passi dal centro e dal parcheggio Kennedy e da tutta la zona d'Arsena. Presente al taglio del nastro l'assessore alle attività produttive, lavoro e patrimonio Angela Travagli insieme ai rappresentanti della FIAB di Ferrara e del nazionale associazione aderente a Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Un nuovo spazio che sarà adibito a punto informativo per quanto riguarda la ciclabilità urbana e il cicloturismo inserito nel contesto di Porta Paola e contiguo alla strada dei vini e dei sapori. E siamo in chiusura. Prima di chiudere vi ricordo la serata sportiva di Telestense alle 20 Basketin e alle 21 lunedì Sport. Vi ricordo anche che da giovedì 10 marzo Telestense cambia canale, passerà sul 19 del digitale terrestre, mentre invece potete continuare a seguire le nostre informazioni come sempre su telestense.it e sui nostri canali social. Grazie dunque per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata. Grazie. 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 Grazie.